Andiamo a fare questa partita, doveva vincere il Liverpool per passare 3 a 1 a un certo punto per il Dortmund, manca un quarto d'ora dalla fine Lo stadio incomincia a vibrare e io ho questa sensazione che ricordo benissimo Attaccava proprio sulla porta che era vicina alla loro curva E io sento questa percezione della curva che attira il pallone in porta Segna il 3 a 2 e Beppe mi tocca e mi fa 3 a 3 in piedi Io e lui che finiamo la partita in piedi 4 a 3, lo stadio impazzisce, io e Beppe alla fine piangiamo, ci abbracciamo Beppe era tifoso e c'era uno dietro, un italiano che aveva vinto un biglietto con uno di questi concorsi Quindi ci giriamo e lui mi fa Che grande, ho vinto questo biglietto, mai avrei pensato di vedere una cosa così Sono l'uomo più fortunato del mondo E io gli faccio, pensa a me che mi hanno pagato per venire qua